Si resta in quota, aggrappati ai pantaloncini della Juve, è il risultato più importante, al di là di un bel 5-1. Sì, ma noi non abbiamo mai guardato gli altri, noi pensiamo sempre di crescere e di migliorarci. Oggi siamo riusciti a dare continuità al risultato di Cagliari e questo mi rende soddisfatto. Mazzari, è stata una partita vinta 5-1, però lei nell'intervallo credo che si sia fatto un po' sentire, perché il rischio e la paura, diciamo così, di subire un'altra rimonta interna, a un certo momento sembrava si vedesse. Mi sono arrabbiato molto, proprio perché abbiamo buttato via quattro punti, due col Mila e due col Torino, perché ci siamo così. Purtroppo da questo punto di vista bisogna ancora migliorare e crescere, ci era successo l'anno scorso, probabilmente abbiamo perso la Champions, in casa col Catania vincevamo 2-0, ci siamo fatti rimontare perché ci rilassiamo, pensiamo già, così, superficialmente di aver già chiuso la partita, averla portata a casa e gli altri ci puniscono. Considerando che la Juventus sta da giocarsi una partita decisiva mercoledì in Champions League, non parliamo di Scudetto ma parliamo della corsa per il titolo d'inverno, mancano quattro partite, il Napoli ha l'Inter fuori casa, il Bologna in casa, il Siena fuori casa, la Roma in casa, la Juventus ha il Palermo fuori, l'Atalanta in casa, il Cagliari fuori, la Sardegna fuori.